Torino 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 Questa è casa mia, e tu sei solamente un intruso, non ti voglia... Sto caricando lentamente, questo è un baffaculo! La mia gola è morta! I'll close my eyes to see, I'll close my eyes to see, I'm really a prince is all it's gonna take! Sebas... Onico, Iorico e Corinthians, come va in questa sera? Donico, Ionico e Corinthians, le patateate alle gengive, anche io! Come avere del formaggio gommoso attorno alle gengive? Benvenuti a Maurizio Show, questo show regala a questi giovani l'opportunità di vincere in una catena d'oro. in cui spiego quanto lui sia un peglione quindi Paolo di genero io adesso ti chiedo sebo ma cosa cazzo fai ma guarda come guarda questo odore è talmente forte che ho l'impressione che si sentirà anche nella registrazione non è caldo sembra caldissimo detto così ragazzi ragazzi pagherò personalmente 5 euro chi si farà uno shottino di questo non sul divano attento sul divano basta Damiano ha sfidato gli dèi e gli sconfitti con la sua forza brutale ha ingurgitato la polinibita di il fisico il futurista nome e cognome data di nascita il futurista no la data di nascita non è importante il futuro è sempre avanti la mia terra s'accinge a questa impresa pastorontica che sussiste in una polinibita futurista da trangurare in un sol colpo uno due e tre il regurgito futurista s'appresta come un no ricomincio gli è passato lo sbocco bene linea allo studio ma passiamo al meteo le previsioni del tempo non le non le so buona serata metti una base tu ti chiami le bonal mike frate minchia manco fosse il tetto rike frate l'ho detto l'anno scorso la mia minchia ti fa un corso ma che vecchi voglio andare avanti giovani vecchi ma giovani vecchi che cosa ti ha provato giovani vecchi non lo immaginavo che non è stato il punto originario che a pensarci fa qui giovani vecchi ok cazzo non ce l'ho pensato pensavo fosse una cosa normale da dire andiamo a dormire dai raga percorso ma sai che c'è succhiano il lupere con umiltà con umiltà combatteranno l'umiltà importante ho detto 50 tefani combatteranno per l'umanità ma cosa stai facendo quello è un ventifricio un uomo capisce l'importanza di una cosa solo quando la perde hai detto in camera di profilo si dove hai il microfono si ricordi quando abbiamo provato ad uccidere daniel certo me lo ricordo come se fosse ieri no damiano intossicati come dei coglioni finiremo morti dei nostri polmoni ho sentito qualcosa cazzo mi chiesto al mio prof di cinema quando ho visto il scenic giù ho detto ma avete fatto e la vostra storia ditemi qual è la vostra storia ne ho appena conclusa una di storia ognuno è il protagonista di se stesso ognuno ha una storia da raccontare e noi noi ne siamo i propri artifici ragazzi con l'auto mi son cagato in culo torino 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 Grazie.